Ciao, benvenuti in questo video. Sono Umberto di TrackPoint e mi occupo da 28 anni di installazioni, riparazioni e modifiche di riccia trasmittenti CV. Questo che stai vedendo è un Volvo quarta serie che ho appena terminato l'installazione dell'antenna staffa per il CV. Vediamo un attimino com'è composto questo lavoro. Innanzitutto è stata messa la staffa, una staffa che viene fissata nel Volvo quarta serie alla visiera parasole, per cui semplicemente con la sua vite non c'è necessità di fori o altre cose. È una staffa in acciaio inox Bike TrackPoint ed è stata installata l'antenna Power. Antenna ancora Bike TrackPoint, 1,60 m, 800 W di potenza, massima flessibilità, pretarata. Cosa significa? Che è un'antenna che una volta terminata l'installazione, l'antenna è già perfettamente funzionante. Questo è un notevole vantaggio nel quale momento facessi un'installazione e fai da te. Ossia prendi questa antenna e te la installi da te, senza nessuna esperienza. E ho installato il CV. CV che era qua in riparazione in quanto guasto perché precedentemente utilizzato per un lungo tempo con la sua antenna originale del Volvo, che come diverse antenne originali hanno il problema di avere molte stazionarie e questo crea il guasto sui finali di potenza. Il CV è stato oltre che, diciamo, riparato anche trasformato, come puoi vedere, con l'illuminazione blu, le manopoline trasparenti e il led dello smitter bianco a effetto exeno. Proviamo un attimino in trasmissione. Come vedi, arriva perfettamente a fondo scala ed è tutto funzionante. Per eseguire questo lavoro, il tempo di esecuzione sul Volvo quarta serie per l'installazione della staffa e dell'antenna è di un'ora. Sono qua oggi da TrackPoint perché ho avuto dei problemi con l'antenna e mi dava dei problemi sulla portante perché è ancora originale. C'era Umberto, è stato molto gentile e mi ha spiegato la situazione. Con l'antenna originale ci sono dei problemi che vanno a causare dei problemi anche sul CV e ho deciso di montare la nuova antenna già predisposta, programmata e tutto che funziona veramente bene. Contattami ai numeri qua in sovrimpressione allo 0375 98340 o sul numero di cellulare il 335 446 595. Consiglierei Umberto TrackPoint ai miei colleghi, a tutte le persone che conosco che guidano camion per lavoro perché ha professionalità, sa rispondere alle domande che offri, ha vari articoli per il camion e tutti gli accessori vari, è una persona esquisita. Da Umberto di TrackPoint grazie per avermi seguito su questo video, ci vediamo al prossimo! Ciao!